Quella che vedete è mia sorella, alla quale voglio porre una domanda. Possiamo inquadrare le scarpe di mia sorella? Dove le hai prese? Questi arrivano da Tokyo, sono leggeri come le piume degli uccelli. Come sempre l'uccello va tenuto in gabbia. In questo caso lui le tiene sotto ai piedi. No, 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 sempre. Devono sempre volare. Sempre volare? Devono volare in alto, in basso, a metà, ma devono sempre... Non ti piacciono, però sono bellissimi. Veramente bellissimi. Mi hanno pagato pochissimi, anzi, mi hanno negalato. E la gonna? La gonna sta fatta andare con gli uccelli.